L'evento videoludico dell'anno è ormai alle porte, ci separa infatti meno di un mese dall'E3 2019 e direi che è un ottimo momento per fare il punto della situazione su cosa aspettarci dall'evento Los Angelino. Sarà sicuramente un anno di transizione e con sogni assente d'eccezione, ma non per questo mancheranno annunci succosi, parecchie conferme e speriamo qualche novità. In questo video vi ricorderò date e orari delle conferenze più importanti, cercando anche di immaginare cosa verrà presentato al loro interno. Prima di continuare però, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle notifiche per non perdervi gli aggiornamenti sui miei prossimi video e se ve lo stavate chiedendo, la cartellina è solo per fare scena. Perché l'edizione di quest'anno sarà di transizione per l'E3? Beh, ci troviamo agli sgoccioli di questa generazione di console, ma è ancora troppo presto, forse, per presentare concretamente la next gen. Quindi dopo due anni densi di annunci e reveal pazzeschi e un 2020 che ci fornirà dettagli su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, il 2019 si mette nel mezzo con una fiera decisamente più calma. Tanto che una delle regine dello show non parteciperà all'esposizione. Sony infatti abbandona la fiera per ritirarsi in meditazione. Risaputo ormai che lo sviluppo di PlayStation 5 è in fase avanzata e probabilmente la casa giapponese sta concentrando i suoi sforzi per ultimare la console e preparare un reveal in grande stile. Quindi niente tre per Sony, ma preparatevi a sentirne delle belle nell'immediato futuro. Anche Electronic Arts non terrà nessuna conferenza, ma a differenza di Sony, sarà fisicamente presente all'E3 tramite l'EA Play, ovvero la possibilità di provare in anteprima i giochi che usciranno nel corso dell'anno. Inoltre, tra il 7 e il 9 giugno, anche se gli orari non sono stati ufficializzati del tutto, EA proporrà una serie di live streams per gli utenti da casa. Non c'è da aspettarsi molto da EA, se non le solite conferme annuali sui titoli sportivi e, perché no, qualche segnale forte che salvi dal baratro non solo Anthem, ma anche Apex Legends, il battle royale sviluppato da Respawn Entertainment. Il gioco, pubblicato praticamente a sorpresa, dopo una partenza col botto, ha registrato un calo notevole di interesse da parte della player base. Da tenere d'occhio la live stream dedicata già a The Fallen Order, programmata per domenica 9 giugno alle 18.30 ora italiana. Il gioco, sviluppato sempre da Respawn Entertainment, sarà uno dei protagonisti dell'E3 2019 e vedrà un ritorno alle grandi avventure in single player del brand di Star Wars. Con una pubblicazione prevista per il 15 novembre, speriamo di vedere almeno qualche spezzone di gameplay. Passiamo ora alla conferenza Microsoft, che si preannuncia come una delle più corpose dell'evento. programmata per domenica 9 giugno alle 19.30 ora italiana, vedrà come protagonista assoluto Halo Infinite, presentato in esclusiva lo scorso anno, sempre alle 3, tramite un breve teaser. Uno dei titoli first party più attesi è sicuramente Gears of War 5 e inoltre si vocifera il possibile annuncio di un nuovo capitolo di Forza Horizon. Inoltre Microsoft potrebbe decidere di cogliere tutti quanti contro tempo e annunciare a sorpresa la sua nuova console, Xbox Scarlett. Con Sony fuori dai giochi poi è probabile che molte software house third party scelgano la conferenza della casa di Redmond per mostrare le loro creazioni. Così come per l'E3 2018 è lecito aspettarsi la presenza di CD Projekt Red con il loro attesissimo Cyberpunk 2077 e From Software con un nuovo titolo ancora top secret. Si vocifera però che gli autori di Dark Souls e Sekiro siano al lavoro su Great Rune, un action RPG open world ad ambientazione norrena. A raffiancare il team nella scrittura della storia ci sarebbe l'autore del Trono di Spade, George Martin. Probabile anche la presenza di Dying Light 2, secondo capitolo di uno dei survival horror più apprezzati degli ultimi anni. Orario decisamente più scomodo per la conferenza di Bethesda che si svolgerà alle 2.30 del mattino di lunedì 10 giugno. Vale comunque la pena fare nottata per vedere tutte le novità relative a Doom Eternal, secondo capitolo del reboot della saga di Doom avvenuto nel 2016. Oltre a questo però ci saranno poche novità. Ci saranno annunci riguardanti titoli minori della serie di Elder Scrolls, come per i giochi mobile Legends e Blades, probabili aggiornamenti per Elder Scrolls Online, ma nulla riguarda il sesto capitolo della serie principale, di cui ci è stato mostrato un brevissimo teaser trailer lo scorso anno. Dopo un 2018 disastroso, Bethesda però deve riscattarsi in qualche modo. Io mi aspetto un rilancio in grande stile del loro fallimento più eclatante, Fallout 66, l'MMO ad ambientazione post-apocalittica che è stato visto come un vero e proprio insulto dai fan della saga di Fallout. Il 10 giugno ci saranno altre tre conferenze molto interessanti. Si parte alle 19 con il PC Gaming Show, evento pensato per il PC Gaming. È impossibile dire con sicurezza cosa verrà mostrato durante questa conferenza, ma negli anni scorsi è stato uno showcase molto interessante per numerosi titoli indie e speriamo che anche quest'anno si ripeta la stessa situazione. Alle 10 di sera invece è il turno di Ubisoft e questo appuntamento forse è quello che potrebbe riservare più sorpresi in assoluto. Ubisoft infatti deve mostrare assolutamente qualcosa di Beyond Good and Evil 2, seguito di una vera gemma dell'era PlayStation 2 GameCube Xbox, annunciato ormai parecchi anni fa ma di cui non sappiamo ancora praticamente nulla. A proposito di rientri in grande stile, si fanno sempre più insistenti rumor che vorrebbero un ritorno di Sam Fisher e del suo Splinter Cell, dell'annuncio di Watch Dogs 3, serie che in verità non mi ha mai convinto del tutto, e di Mario Rabbis 2, sviluppato dalla divisione italiana di Ubisoft. Mi aspetto ovviamente qualche notizia sul nuovo Ghost Recon Breakpoint annunciato nei giorni scorsi e poi il nuovo Assassin's Creed a tema vichinghi, che è un po' la moda del momento, un probabile Far Cry 6 e perché no qualche aggiornamento sul quasi dimenticato Skull & Bones. Per gli appassionati dei giochi multiplayer ci saranno sicuramente aggiornamenti ed espansioni per Rainbow Six Siege, The Division 2 e For Honor. A prendere il posto di Sony alle 3 del mattino di martedì 11 giugno c'è Square Enix e preparate il caffè perché nell'orario più scomodo di tutti si trova la conferenza che aspetto di più in assoluto. Non solo potranno gioire gli utenti di Nintendo Switch con la presenza di Dragon Quest XI e Dragon Quest Builders 2, ma anche l'ora della verità per il remake più atteso degli ultimi 20 anni. Come annunciato durante lo scorso State of Play di Sony, avremo finalmente informazioni corpose su Final Fantasy VII Remake, rifacimento dello storico JRPG che scrisse la storia del genere su PlayStation 1. L'hype intorno a questo titolo è pareggiato soltanto dal timore dei fan che Square Enix sbagli il tiro su questo remake, macchiando così i ricordi videoludici relativi a uno dei giochi che hanno segnato una generazione intera. Sarà insomma un banco di prova importantissimo per la software house giapponese e per me sarà forse il momento topico dell'E3 2019. E passiamo infine a Nintendo che sarà presente fisicamente all'E3 con dei tornei dedicati a Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate. Oltre a questi, martedì 11 giugno alle ore 18, ora italiana, si terrà il consueto direct che accompagna l'evento Los Angelino. Anche qui le aspettative sono altissime e lo streaming in diretta potrebbe rivelarsi tanto una goduria nerd quanto una cuocente delusione per i fan. Dopo il rinvio di Metroid 4 e il probabile slittamento anche di Bayonetta 3, ci sono molti giochi che rischiano di subire lo stesso destino. Nintendo deve necessariamente confermare le date di titoli attesissimi come Luigi's Mansion 3 e Animal Crossing. Inoltre ci sono così tanti giochi di cui sappiamo poco che se venissero annunciati tutti probabilmente non basterebbero due ore di direct. Abbiamo il remake di Link's Awakening, nuove informazioni sulla prossima generazione di Pokémon, ovvero i già annunciati Spada e Scudo, ma anche il misteriosissimo Town, sempre di Game Freak, di cui è recentemente uscito un nuovo screenshot. Lecito aspettarsi anche più dettagli riguardo a giochi di prossima uscita. C'è ad esempio Demonix Machina che deve riscattarsi dopo una demo piuttosto deludente, ma anche il debutto su Switch della serie di Fire Emblem Country Houses, previsto per il 26 luglio, e per finire anche Astral Chain, nuovo beat'em up firmato da Platinum Games. Previsto per il 30 agosto è forse uno dei giochi che attendo di più in assoluto per Nintendo Switch. Platinum Games è sinonimo di qualità. Senza dimenticarsi di Hollow Knight Silksong, il seguito del Metroidvania sviluppato da Team Cherry. Sebbene il gioco sia previsto per tutte le piattaforme, le ottime vendite del primo capitolo su Nintendo Switch potrebbero portare gli sviluppatori a presentare il titolo durante il direct della casa di Kyoto. Sono aperte anche le scommesse su quale sarà il prossimo personaggio per il Fighter's Pass di Smash Bros. Ultimate. I rumor sono indirizzati verso Eldrick di Dragon Quest e a questo punto sembrerebbe un'ipotesi più che plausibile. E permettetemi di fantasticare un attimo. Sappiamo tutti che Metroid Prime 4 non sarà presente alle 3, ma secondo me i ragazzi di Retro Studios potrebbero comunque presentarsi con un annuncio inaspettato. Magari quel progetto super segreto su cui hanno lavorato negli ultimi anni e che gli ha fatti sparire da radar dopo la pubblicazione di Donkey Kong Tropical Freeze nel 2014. O magari la Nintendo potrebbe annunciare a sorpresa una Virtual Console con tutti i titoli Nintendo 64 e Gamecube. O magari un Nintendo 64 Mini o un Gamecube Mini. Insomma, Nintendo, sorprendici. E questo ragazzi era il riassuntone su quello che ci sarà da aspettarsi in questo E3 2019. Certo, è un anno di transizione, ma come abbiamo visto di carne da mettere al fuoco ce n'è parecchia. Io personalmente sono già in pieno hype e voglio sapere la vostra. Come al solito io vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i titoli che aspettate di più e quali sono gli annunci che vorreste vedere a sorpresa. Prima di salutarvi vi rinnovo l'invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle notifiche. Questo è il gesto della campanella delle notifiche. In modo da rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi upload. Io sono il Polo Michele da Los Angeles. Ciao! Los Angeles. Provincia di Roma. Roma. Va bene così, direi che ho detto tutto, tutte le conferenze, un video lunghissimo, ci metterò 30 anni. Va così.